Preside Ada Vendrame, il filone dell'informatica, l'informatica filo conduttore al comprensivo Coletti, dal progetto Digitali Uguali al nuovo percorso scientifico sportivo. Quando ho visto l'iniziativa Digitali Uguali nella scorsa primavera, ho iscritto subito l'istituto comprensivo e la scuola secondaria di primo grado perché ho ritenuto che si inserisse nel nostro progetto più ampio di potenziamento delle discipline STEM. Era una possibilità importante di dare dei dispositivi digitali agli alunni che avrebbero frequentato il percorso scientifico sportivo, un percorso che intende potenziare le competenze in ambito scientifico, matematico, tecnologico. In questo si inseriscono poi le due nuove aule di informatica, nella sede Bianchetti e nella sede Coletti. Aule di informatica che abbiamo ottenuto con i fondi del piano nazionale Scuola Digitale, nel piano estate e percorso scientifico sportivo finanziato dal PON estate 9707. Il progetto Digitali Uguali ha permesso di dare ad alcuni alunni del nostro istituto un dispositivo, un Chromebook appunto, attraverso il quale poter seguire in modo completo le attività proposte dalla scuola.